Mendoza è diretto a Guantana, Rico. Il posto lo conosci bene. Si trova sull'aereo presidenziale. Purtroppo non lo puoi abbattere. Oh no, ci serve una conferma visiva, Rico. Dovrai salire a bordo di quella cosa per finirlo. Credo che l'unico modo per salire sull'aereo sia quello di saltarci a bordo. Grazie a tutti. Polizia! Fermo! Fermo dove sei! Fermo dove sei, cittadino. Fermo dove sei! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho visto Air Force One almeno sei volte e ti assicuro che in ogni occasione vinceva il presidente. Sai, non importa che fosse il presidente. Alla fine vince sempre il buono. E oggi il buono sono io. Il presidente è più coriaceo di quanto credessimo. Fai una cosa, piazzagli un po' di esplosivo sotto le chiappe e sistemalo una volta per tutte. Ragazzi, che giornata stupenda per un lancio. Alla fine. Alla fine. Vedi cosa succede quando mi arrabbio? Che bel disastro. Boom! Accidenti. Il presidente ha sempre voluto diventare parte integrante del suo paese. Ora è sparso pezzettini dappertutto. Potrà prendere il sole su tutte le spiagge di sale e sperito. Se non è un lieto fine a questo. 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 טainte tutto. Tutto. Alla fine a questo. Va bene forno a questo. Inозяott penalty tra loro, Grazie a tutti.